Sì, sono felice di poter aiutare la squadra e sono felice di dare il mio migliore per fare con che tutto il lavoro che facciamo sia un valore. Secondo me se tutti mettiamo qualcosa in più che tutti abbiamo, togliamo sempre delle belle soddisfazioni. È stata una vittoria molto importante, ci ha mantenuto vivi per il campionato e dobbiamo continuare su questa strada, sempre insieme, sempre uniti e a fare i punti. Tutta la squadra ha un livello fisico altissimo e lavoriamo sempre molto bene, siamo moltissimo bene preparati e durante le partite riusciamo a togliere tutto quello che lavoriamo durante la settimana e fare prestazioni a livello fisico molto buone. È una gara molto difficile come tutte le altre che per noi ha il valore di tutte queste gare che abbiamo fatto fino adesso e sempre provando a mettere qualcosa in più in campo, sia qualcosa individuale, collettivo o anche di carattere in più perché contro una squadra forte e storica come la Fiorentina mi aspetto una gara molto difficile da quale dobbiamo fare sempre il nostro migliore con la massima attenzione per portare a casa un risultato positivo.